Lo sport come strumento di inclusione per superare i pregiudizi e anche la solitudine. A Rimini si è concluso il torneo Matti per il calcio, rassegna che coinvolge i centri di salute mentale di tutta Italia. Per noi Nelson Bova. Avete vinto? Sì, alla grande! Tu hai fatto gol? No, stavo come Chiedini in difesa dietro. Ho fatto nella seconda partita due golle e due pali. Qualche assist che ha fatto gol? Qualche assist sì, sì anche. Però abbiamo perso le altre partite, adesso speriamo di vincere l'ultima. Nel giorno delle finali lo spirito competitivo arriva, diventa parte del gioco, ma il protagonista è sempre il fair play. Quest'anno è a Rimini la quindicesima edizione di Matti per il calcio a 160 tra utenti e qualche operatore dei centri di salute mentale di tutta Italia. 7 contro 7, 12 squadre tra loro Parma e Ferrara. Per questa partita sono stato il portiere della squadra, sono anche il loro allenatore. Quello che mi fa divertire è correre dietro a un pallone così, con lo scopo naturalmente di fare gol. Faccio il portaborse, quello di fare delle medicine. Perché non giochi? Perché quest'anno, 14 ottobre, 60 anni. Adesso ormai facevo l'attaccante se faccio il difensore. Quando arriverai a fare il portiere? Quando arriverai a fare il portiere se va a un salto di qualità. Vuol dire che la tua carriera sta finendo. Matti per il calcio è nato 17 anni fa da un'idea della Wisp. Ci sono degli spaccati di vita veramente straordinari e tutti noi, anche dirigenti dell'associazione, i nostri arbitri, i nostri tecnici, i nostri allenatori, impariamo molto ogni giorno da loro. Ci aiuta a conoscerli in un contesto diverso, quindi anche quando poi andiamo in comunità molte problematiche sono risolte.